Ciao a tutti i giolicorni, allora oggi sono particolarmente chiacchierona quindi ho già rifatto questo video e me lo sto rifacendo perché non posso permettermi di parlare tanto quanto sono logorroica Quindi incominciamo subito con LOL Ho comprato il rossetto di Ariana Grande che è molto simile allo Smoked Purple però mentre lo Smoked Purple della MAC vira al viola questo è più che altro un marroncino violaccio Ed è appunto questo, è un rossetto che va in beneficenza, nel senso che ricavati 10 euro vanno in beneficenza appunto c'è la scatoletta speciale Da Matis che è il mio negocio preferito perché ha la mia marca preferita che è Plis ho preso questa gonna che è molto me stesso, una gonna molto corta che costava 40 euro e l'ho pagata 20 euro Da American Apparel c'erano dei super saldi, allora anche se non era la taglia mia perché avevo la taglia in meno, la M, ho preso i disco pant e corti perché ho detto va a far un bagno e riuscirò a farmi restringere in qualche modo Che pole! Oh come dicevo me li farò restringere in qualche modo però questi da 60 euro costavano 8 euro e per andare in discoteca 8 euro ci sta Poi ho preso un completo alla Kylie Jenner perché è lo stile mio, quello che mi piace tanto in Italia è difficile trovarlo Questa gonna lunga che arriva sotto il ginocchio che a me personalmente dona tantissimo Con sopra questo top a maniche lunghe crop top da abbinare sempre alla gonna, sono un abbinamento bellissimo, non vorrei essere concentrica, mi stanno proprio da dio, non vedo l'ora che arrivi primavera per indossarli Sono andata da Victoria's Secret perché quei saldi prezzi erano diciamo più proponibili e ho preso due mutande a 15 euro Queste mutande nere un po' più carine, un po' più speciali con questi particolari Queste mutande per tutti i giorni con la scritta Victoria's Secret molto poraccia Un sito di intimo mi ha contattato, io sono amante dell'intimo quindi ho detto yes please E mi ha inviato, si chiama PPZ e mi ha inviato questo reggiseno molto carino perché è bicolor, molto tranquillo Che costava 44 dollari Questo reggiseno con i cosetti, questo perché non so dare un nome E costa 40 dollari E in coordinato ho anche le mutandine che sono, io le amo queste mutande perché sono stracomode, stracarine Che costavano 16 dollari Il mio completino preferito che è questo qui con questo inserto nero molto sexy Ma le mutande sono un pezzo forte perché io le amo Ma c'è che ho preso sto coso solo per le mutande Che costano appunto tanto, 22,50 Ma sono bellissime raga, bellissime Non vedo l'ora di avere un'occasione per metterle Ma fa magno Valentino che ci ho passato, malissimo Un sito che si chiama Zafun mi ha inviato delle cose stracarine Mi sono portata avanti con l'estate E ho preso questo pareo molto lungo Che quando metti, quando fai il bagno, vuoi andare in giro, non c'è voglia di vestirti Prendi e vai Questa maglietta maniche corte perché mi piaceva molto il fatto che c'era Anna e Carl Un'altra maglietta da mettere come vestito Che è questa qua E' bellissima Leggete Leggete Come pare io sarò Ma cosa fa il venti tappeto? Come potete immaginare sono un amante dei cappotti E ho preso questo qua, la dacce Che ha posto di costare Questo qua, vedete Che ha posto di costare 150 euro l'ho pagato 40-50 A in uno però, un prezzo modico Questi erano i miei acquisti Scusatemi se sono così esplicativa Ma sono veramente stanca Oggi è stata una giornata sfiancante Spero che il mio haul vi sia piaciuto Ditemi cosa vi è piaciuto di più Al prossimo video, ciao